Ciao ragazzi, siamo finalmente giunti alla poetica di Luigi Pirandello. Oggi finalmente vi spiegherò l'umorismo. Per giungere fin qui non abbiamo sicuramente compiuto un percorso semplice. Siamo partiti dal definire la filosofia di Pirandello, il relativismo conoscitivo. Abbiamo poi capito quali tremende conseguenze comporti tale visione all'interno dell'uomo moderno, diviso tra vita e forma, anima e maschere. Abbiamo intuito come per il premio Nobel siciliano questo nostro pazzo mondo non proceda grazie all'intervento della divina provvidenza o grazie al determinismo della scienza, bensì soltanto e puramente per caso. Abbiamo infine analizzato le disgraziate conseguenze di chi cerca una ribellione da questa trappola attraverso quattro disastrose vie di fuga, scoprendo così quanto relativo sia il concetto di pazia e quello di morte. Oggi cercheremo di capire come Luigi Pirandello, che in fondo è uno scrittore profondamente filosofico, ma uno scrittore riesca a tradurre queste difficili e pesanti idee in una vera e propria poetica artistica, come riesca a descrivere tutte le contraddizioni dell'uomo moderno attraverso un'invenzione letteraria, una tecnica narrativa originale e perfettamente coerente con il suo pensiero. Il sorriso amaro dell'umorismo. E sì, perché oggi iniziamo a parlare di letteratura. C'è una premessa doverosa da porre, prima di avventurarci tra le migliaia di pagine scritte da Pirandello, trassaggi, novelle, romanzi, poesie, opere teatrali. Pirandello è uno dei pochissimi autori di letteratura per il quale le distinzioni di genere sono veramente sottili, o meglio mobili. All'interno della sua produzione letteraria, il tema di fondo della frantumazione dell'io investe trasversalmente non solo le menti dei personaggi, ma anche le tecniche narrative, la struttura delle opere e addirittura le stesse etichette di genere. Mi spiego meglio. Una novella può diventare tranquillamente qualche anno dopo un atto unico teatrale. Oppure una scena di forte carica recitativa può essere inserita all'interno di un romanzo. Pensate all'incipit di uno, nessuno e centomila. Che fai davanti allo specchio? Niente, mi guardo qua dentro il naso, in questa narice, avverto un certo dolorino. Credevo ti guardassi da che parte ti pende. Mi pende a me il naso. E così accade che il saggio sull'umorismo, con il suo famosissimo Apologo della vecchia signora, non sia semplicemente un freddo e oggettivo luogo teorico, ma rappresenti già un ottimo esempio di questa frantumazione delle forme letterarie che raggiungerà il suo culmine nel metateatro. Ovvero quando scopriremo che personaggi e attori possono recitare non soltanto sul palcoscenico, ma anche in platea tra il pubblico, fuori dal teatro, distruggendo così la quarta parete. Lo so, ho alzato troppo il livello, ma se avete pazienza tra un paio di puntate sarà tutto chiaro. Che cosa sarà chiaro? Sarà chiaro che non state assistendo a uno spettacolo teatrale, ma che tutti i giorni è la vostra vita ad essere un teatro. Tragica e comica insieme, senza distinzione di genere, relativa appunto, umoristica. Ma andiamo con ordine. Luigi Pirandello pubblicò nel 1908 il saggio sull'umorismo, partecipando e vincendo un concorso per ottenere una cattedra universitaria. In realtà questo testo concretizza riflessioni teoriche che lo scrittore aveva iniziato a maturare già dal 1903. Se ricordate una data cruciale e drammatica nella vita di Pirandello, che segna anche, e non è un caso, un brusco cambiamento poetico. Dal determinismo del verismo alla relatività appunto dell'umorismo. Nel 1903 infatti un allagamento aveva fatto franare la miniera di Zolfo di Famiglia, causando un grave crack finanziario. Inoltre la notizia di questo imprevisto aveva colpito drasticamente la salute della moglie Antonietta, già debole di nervi, che rimase pazza per tutta la vita. Pirandello in quest'anno drammatico meditò più volte il suicidio, ma mentre assisteva alla moglie preferì suicidare per un paio di volte Mattia Pascal. E così nel 1904 venne pubblicato il suo romanzo più famoso, Il fu Mattia Pascal, che aprì una stagione di profonde riflessioni che culminò nel 1908 con la pubblicazione del saggio sull'umorismo. È facilissimo dimostrare questo. Basta aprire il saggio sull'umorismo e concentrarci sulle primissime parole che incontriamo per accorgerci della continuità tra questi due testi e della mobilità di genere di cui parlavamo poco fa. La dedica del saggio infatti riporta le parole alla buonanima di Mattia Pascal, bibliotecario. Già da qui ci viene da sorridere e da riflettere. Il saggio è diviso in due grandi parti. Nella prima Pirandello ci racconta la storia di questa parola, le profonde differenze che il termine incontra nell'antichità e nella modernità. Insomma, tratteggia una storia del genere. La seconda parte invece è la più importante e contiene la definizione pirandelliana di umorismo. Scrive Pirandello che vi è una babilonica confusione nell'interpretazione della voce umorismo. Per tutti scrittore umoristico è lo scrittore che fa ridere, il comico, il burlesco, il satirico, il grottesco, il triviale. La caricatura e la farsa si battezzano per umorismo. Per Pirandello invece l'umorismo è un vero e proprio metodo critico e conoscitivo. È l'unica strada che ci consente di conoscere, comprendere a fondo i drammi degli individui e quindi di smascherare le convenzioni e le funzioni della realtà. Ognuno di noi cerca la felicità, ma in questa ricerca cade spesso in situazioni comiche senza accorgersene. È cioè agli occhi degli altri il contrario di quello che crede di essere. Bene, lo scrittore comico si ferma al ridicolo, al superficiale, si limita a vedere, quindi a ridere superficialmente. Lo scrittore umorista anche lui inizialmente vede e ride, poi però inizia a riflettere e capisce i motivi per cui l'individuo cade nel ridicolo. E sono sempre motivi dolorosi dovuti all'incapacità dell'uomo moderno di raggiungere la felicità. A questo punto Pirandello presenta un esempio famosissimo e di conseguenza richiestissimo alla maturità. L'apologo della vecchia signora. Apologo significa proprio piccolo racconto esemplificativo di un concetto filosofico o morale. È molto breve e ve lo recito giusto con qualche piccola traduzione di parafrasi per renderlo ancora più chiaro a chi non mastica l'italiano di ormai più di cento anni fa. In seguito porteremo nel nostro presente l'esempio di Pirandello. Vedo una vecchia signora, coi capelli tinti, tutti unti, non si sa di quale orribile sostanza oleosa e inoltre tutta goffamente imbellettata e vestita da abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia e rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così a prima vista e superficialmente arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere ad andare in giro così come un pappagallo ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente si inganna che mascherata così, nascondendo così le rughe e i capelli bianchi, riesca a trattenere a sé l'amore del marito molto più giovane di lei. Ecco che io non posso più riderne come prima perché appunto la riflessione lavorando in me mi ha fatto andare oltre a quel primo avvertimento o piuttosto più addentro. Da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario ed è tutta qui la differenza tra il comico e l'umoristico. Dunque siamo seduti a un bar a far l'aperitivo e vediamo passare una vecchia, ma vecchia, vecchia, lenta, claudicante, con la gobba, le rughe, però vestita come una velina, leggings, minigonna, tacco 12, rasata alla skrillex e magari con un bel tribale che sale dalla caviglia. Direi che ci mettiamo a ridere. Magari il più esuberante di noi se ne parte con qualche battuta pessima. Ridiamo davanti all'impressione superficiale che genera il contrasto tra vecchio e giovane. A un certo punto si avvicina un signore e ci chiede, ragazzi, ma state veramente ridendo di quella signora lì? Ma lo sapete almeno perché si veste così? Ecco la riflessione. Noi rispondiamo no, ridiamo soltanto per la superficiale impressione comica. E allora ve lo dico io, fa lui. Quella signora ha avuto una storia d'amore bellissima e lunghissima con un uomo, purtroppo molto più giovane di lei. E adesso che lei è diventata vecchia e lui ancora giovane, ha iniziato a guardare le ragazze più giovani. Lei, per sentirsi ancora un po' desiderata dal suo grande amore, ha iniziato a vestirsi da giovane. Ecco l'umorismo penetra la superficialità degli opposti, svelandoci il perché esistano, il sentimento appunto che li fa sorgere. L'umorismo insinua un senso di forte compassione dovuta alla comprensione del dramma dell'individuo. Cioè, il motivo che ci rende ridicoli agli occhi degli altri è profondamente serio, tragico, e il nostro bisogno di essere felici e a volte l'impossibilità di esserlo. Se solo potessimo ascoltare ciò che dicono le persone di noi quando noi non ci siamo, scopriremo di essere esattamente il contrario di ciò che crediamo di essere, scrive Pirandello. Il comico dunque è necessario all'umorismo vero e proprio e, come vedremo in due novelle che vi racconterò nelle prossime puntate, a volte può anticiparlo, a volte seguirlo. Bene, ora è chiaro come attraverso l'umorismo Pirandello abbia trasformato in poetica la sua visione relativistica della realtà. Di fronte alla stessa vicenda possiamo ridere e provare compassione. Con questo è tutto ragazzi, vi lascio con le parole di un vecchio pescatore che sta lottando da giorni in mare, come un enorme pesce spada, che non vuole arrendersi, ma poi pensò, devo farlo venire vicino, vicino, vicino. Non devo mirare alla testa, devo prendere il cuore. Ciao ragazzi, alla prossima.